A Natale bisognerebbe essere tutti un po' più buoni. Ma questo discorso vale anche per gli haters? Ovviamente no! Anzi, tutti sappiamo che durante le festività natalizie le persone sono molto più incazzate e quindi gli haters ci hanno regalato un magico Natale per cui andremo a leggere i loro commenti che tra l'altro per la maggior parte sono commenti di vecchi rincoglioniti. Sigla e a tra poco! Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arriviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast Rieccoci qui, benvenuti, benvenuti in una nuova puntata di Diva Podcast dedicata agli haters. In questa puntata porrò maggiore attenzione ai vecchi, agli anziani che invece di starsene beatamente in casa di riposo senza telefono tra le mani infestano il web. Io non so come sia possibile che questi anziani siano così tanti e soprattutto così incazzati sul web perché qui abbiamo una lista lunghissima di loro commenti insomma dei vecchi rincoglioniti, frustrati che per qualche motivo appunto sono arrivati anche su Instagram. e non parliamo, cioè per vecchi io non intendo i cinquantenni, sì nel senso ci sarà anche qualche cinquantenne così ma non mi riferisco a loro qui parliamo proprio di settantenni di settantenni che se la prendono con una donna molto più giovane di loro potrebbero essere i vostri nonni, potrebbero essere i vostri bisnonni addirittura quindi adesso le andremo a leggere in questa lista c'è un po' di tutto in realtà un po' giovani, un po' vecchi quindi io ve li leggo tutti, ve li porto tutti che questa è una puntata rilassante di fine anno ah tra l'altro è l'ultima puntata di Diva Podcast dell'anno ragazzi questo è importante dirlo, è l'ultima puntata di Diva Podcast del 2023 e quindi finiamo in bellezza appunto con i vecchi rosiconi iniziamo subito da Gianluca Covatta che ha da ridire insomma sul mio aspetto fisico e dice questa appena si sveglia non si riconosce pure lei ecco chiaramente intendendo dire che quando mi sveglio senza trucco non mi riconosco però mettiamo qua in giro regia pesca da qualche parte una mia foto senza trucco anche qualcuna in più insomma tanto ne ho di foto senza trucco mettiamole certamente sono diversa rispetto a quando sono con il trucco con il make up e con i filtri però insomma non penso di essere così male soprattutto non quanto il signor Gianluca che lo vediamo qua in tutto il suo splendore mentre addenta una foto mentre addenta una coscia di pollo i polli sono sempre presenti all'interno di questi podcast e io per prenderlo in giro gli ho detto è vero quando mi sveglio al mattino struccata a volte vedo la tua faccia ecco sì perché se dovessi vedermi cessa al mattino mi immagino un po' tipo Gianluca vabbè comunque proseguiamo proseguiamo qui abbiamo un giovinotto un giovinotto perché vi ho detto che non ci sono solo anziani ma gli anziani arrivano più verso la fine quindi seguite questo podcast fino alla fine proprio perché abbiamo proprio tutta la casa di riposo riunita comunque Stefano dice ma vai a farti una cacata una cacata com'era quella canzone che faceva cos'è della Alessandra Amoroso che mi sveglio tutta cacata è quella? credo che fosse una storpiatura di TikTok però ci sia anche io l'originale non la so io so solo questa che era tipo mi sveglio tutta cacata vabbè comunque io rispondo al nostro Stefano che vediamo qui la sua faccia chiedendogli mi fai da WC mi fai da WC insomma dato che mi inviti ad andare a cagare io ti invito insomma ad utilizzare la tua faccia come WC che secondo me ci può stare cioè secondo me ci sta bene non so voi secondo me ce lo vedo come tavoletta del water voi no ma proseguiamo ecco qua comincia l'ospizio comincia l'ospizio il signor Tiziano che dice veramente brutta veramente brutta io non so se il signor Tiziano stava parlando di se stesso perché andiamo a vedere la faccia del signor Tiziano insomma questo è il signor Tiziano il signor Tiziano che insomma ha da ridire sul mio aspetto fisico ma passiamo dopo il signor Tiziano anche ad un'altra signora un po' più secondo me sui 55 quindi ancora non pronta per la casa di cura ma sicuramente pronta per l'ospedale psichiatrico che dice e fai bene ad ammirare te stessa faccio bene ad ammirare te stessa perché non lo farebbe nessuno facciamo vedere la foto della signora Sabrina che non è una brutta donna per la sua età insomma però insomma probabilmente un po' di rosicamento ce l'ha anche lei anche se insomma non se la passa male andiamo a Cesare quel che è di Cesare non è una brutta signora la signora Sabrina però io le rispondo dato che dice che nessuno mi ammira io le dico solo centinaia di migliaia di persone probabilmente pure i suoi nipoti ma non se ne preoccupi signora Sabrina ma vi immaginate io sono sicura che tra tutti questi hater che pubblico ci sarà sicuramente qualche nipote che li riconosce c'è quindi che vergogna ma passiamo ad un'altra signora che dice Elena la signora Elena dice ma non è che sai chi sa cosa capisco l'autostima ma anche k meno ripetiamo ma non è che sai chi sa cosa sembra un po' la parlata di Nina Moric quando dice se voi se noi se lui comunque andiamo a vedere andiamo scusate sono ancora i postumi del covid andiamo a vedere la signora Elena e io qua non posso far altro che scrivere signora Elena me lo riscriva in italiano perché qui nessuno ci ha capito un cazzo ma a proposito di covid dato che l'ho nominato ecco che esce che esce fuori di nuovo in un video in cui parlavo del covid tra l'altro io ho fatto milioni e milioni di visualizzazioni parlando del covid c'è di gente che mi ha insultata per il covid ma vi rendete vabbè che l'hype va sempre bene però vabbè ma io credo di stare diventando famosa tra i vecchi ragazzi cioè questa cosa non va un cazzo bene cioè io credo di stare diventando famosa tra il pubblico dei vecchi cioè non so se mi devo preoccupare di questa cosa comunque Gianluca Caccavo o Caccavo Caccavo Gianluca Caccavo mi dice il covid ti ha abbassato la vista ecco si riferendosi a un video in cui dicevo che mi vedevo bella anche con il covid che non c'è niente di male no e lui dice il covid ti ha abbassato la vista facciamo vedere il signor Gianluca Caccavo e qui ragazzi quasi qua proprio me le servono sui piatti d'argento infatti ho risposto a te le troppe seghe cioè sapete che le seghe abbassano la vista si dice si dice si dice quindi insomma ma andiamo avanti con un altro signore Alberto si chiama Alberto e dice quando ti manca eleganza sensualità classe stile bellezza e charm io vedo la foto del signor Alberto e gli rispondo esatto Alberto ti mancano tutte allora eleganza non ne vedo qua sensualità vabbè insomma di che parliamo classe non vedo stile manco a parlarne bellezza vabbè e charm vabbè anche quello ovviamente mancante insomma da quel che si può capire da questa foto di Alberto quindi sono certa che parlava di se stesso ma andiamo avanti allora Marco Ferdinando Fasano mi dice e qua parliamo torniamo a un giovinastro un giovinastro e che sembra un po' il figlio sembra un po' ve lo dico dopo allora guarda ti dirò è più bello il covid di te e io l'ho avuto dice che il covid è più bello di me ma andiamo a vedere il nostro Marco Ferdinando ma non vi sembra il figlio di Rosario Muniz Giuseppe Simone cioè se Rosario Muniz e Giuseppe Simone si accoppiassero uscirebbe lui e anche qualcosa di 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 praticò vi ricordate pratico qualcosa di pratico cioè questo è un è un agglomerato di casi umani ragazzi un agglomerato di casi umani ma andiamo oltre andiamo avanti dopo l'agglomerato di casi umani andiamo alla signora Claudia ma la signora Claudia ah sì della signora Claudia noi abbiamo già parlato mettiamo la foto qualcuno se la ricorda una donna mica male la signora Claudia insomma se la cava bene per la sua età no diciamo non sono tutti bruttissimi quelli che mi commentano la signora Claudia non è male insomma però a quanto pare ha qualche problema con se stessa perché dice come puoi pensare che qualcuno ti voglia ammirare sei schifosamente una pagliaccia mentre ammiri H24 te stessa non dimenticare di farti schifo minchia signora Claudia ci dà giù pesante che cattiveria che cattiveria signora Claudia che cosa ha mangiato a colazione yogurt scaduto veleno di vipera sperma di serpente ce lo dica signora Claudia e si rilassi Pantano Luca un altro giovincello anche lui non male non male non male facciamo vedere Luca prima di leggere cosa ha scritto e Luca ci dice io ammiro te che senza Instagram non eri un cazzo intanto non è vero perché io ho iniziato su YouTube quindi YouTube è stato l'inizio del mio successo come content creator Instagram è venuto dopo quindi non ho avuto successo grazie a Instagram semmai grazie a YouTube ma ci tengo a precisare una cosa a Luca insomma al nostro Luca e glielo scrivo dicendo pensa che tu non sei un cazzo nemmeno con Instagram ecco insomma diciamoci la verità insomma non è che tutti quelli che si mettono su Instagram diventano famosi grazie a Instagram ma solo quelli più bravi non dimentichiamolo quindi insomma non è ovviamente il caso di Luca poi abbiamo un'altra signora un'altra signora Sonia che dice non pensare che ce l'hai solo tu si riferisce alla patong alla patong e chi ha mai detto che ce l'ho solo io cioè nel senso nel senso vabbè comunque io nel dubbio rispondo facciamo vedere la signora Sonia nel dubbio rispondo non si preoccupi signora Sonia li lascio tutti a lei e alla sua patong non si preoccupi non si preoccupi non le rubo nessun pene poi qui abbiamo un'altra che si chiama Insi Insi non so come si chiami davvero che scrive un banale la diva del tubo del cesso ma a proposito di cessi facciamo vedere lei qualcuno nei commenti qualche cioè qualcuno qualcuno qualche signore qualche signore che simpatico signore che mi segue ha risposto però ha delle belle tette vabbè sì ammettiamo che non ha delle brutte tette la signorina qui presente il problema non sono quelle ma la face la faccia insomma ma a proposito di facce da cazzo andiamo avanti con un altro giovinotto in attesa che arrivi tutta la casa di riposo che tra un po' arriva ragazzi che dice rimani inguardabile cara e io gli rispondo un po' come te perché facciamolo vedere facciamolo cioè che poi questo Mirko si chiama Mirko lui Mirko Strokes non so se stroke sia inteso in quel senso perché to stroke in inglese cioè vuol dire più significati tra cui segarsi stroke your cock vuol dire insomma vabbè però è inguardabile il nostro Mirko ma non tanto non è neanche non sembrerebbe neanche brutto però dai dove cazzo vai con questi cazzo di capelli ma dove cazzo vai con questo cioè sembra il pelo di figa di Maria Sofia in testa cioè veramente non ce la posso fare comunque un bacio un saluto a Maria Sofia che è stupenda però è molto pelosa è molto pelosa ma andiamo al signor Clark Kent 23 che ci dice orrenda orrenda facciamo vedere non capisco bene cos'è tipo un vigile dalla divisa sembra sembra tipo un vigile un non lo so che cazzo sia però ci fa sapere che per lui sono orrenda va bene lei invece è molto molto buono molto bello poi l'uomo in divisa l'uomo in divisa attizza sempre ragazze su cosa siamo d'accordo poi anche la signora Romilde ha qualcosa da ridire anche lei come il signore di prima dice sei una gran maleducata e sei figa sei orrenda casomai maleducata per aver detto che è sempre il video in cui dicevo che mi vedevo bella anche con il covid vabbè comunque e io chiedo insomma mi insegni lei l'educazione signora Romilde facciamo vedere la signora Romilde insomma e andiamo avanti con un'altra signori signori non so quale darei un secondo me un 48 li ha secondo me allora Jenny e basta e basta nel senso di basta basta speriamo sia l'ultima volta che commenta perché ci dice perfino il mio ex che si farebbe anche i bidoni dell'umido a lui non piace anche qui la grammatica quindi non è tanto figa come si crede riferendosi a me ma ragazzi ma le servono su un piatto un piatto d'oro un piatto d'oro e io le rispondo facendo vedere ovviamente la foto infatti si è fatto tè capi si è fatto te perché cioè voglio dire insomma voglio dire la cara Jenny non è che sia proprio non è che sia proprio una bellezza è un po' strana un po' sì tipo il bidoncino ma non il bidone dell'umido quello che c'è fuori vedete quello a casa quello marrone a casa dove mettete le bucce di banane è quello mi ricorda il bidoncino dell'umido infatti giustamente lei stessa dice che il suo ex si farebbe pure quelle e che per lui non sono figa beh ovviamente cara Jenny non credo che il tuo ex venga a dirlo a te io immagino la scena immagino la scena Jenny che chiede al suo ex sei ma guarda questa cioè secondo te è figa questa tutta incazzata cioè figuriamoci se questo gli dice di sì che si becca le rotture di cazzo fino al Natale 2024 ma che è scemo ma che è un masochista che gli dice sì è figa ovviamente cioè ma di che cosa parliamo ma di che parliamo va bene ma proseguiamo ah qui abbiamo un altro bidone dell'umido ah qui c'è la fiera dei bidoni dell'umido perché Cioddina Cioddina dice ma che ro non so se vuole dire che ridere o che rodere ha scritto ma che rodere ma che rodere tesoro sembri un cubo di rubik e io rispondo però in realtà erano in queste storie non erano consecutive erano in due giornate diverse quindi non mi ricordavo del collegamento adesso però le colleghiamo insieme nel podcast già che siamo in tema le scrivo poteva andarmi peggio cioè lei dice sembri un cubo di rubik io scrivo poteva andarmi peggio tipo sembrare un bidone dell'umido facciamo vedere qua la signorina Cioddina eccola invece mi ricorda proprio quello fuori il bidone fuori cioè io non so associo il bidone dell'umido a quando hanno queste facce da cesse non tanto alla stazza ok ma queste facce così così in realtà non sanno proprio di bidone ma sanno proprio di umido di umido ecco non lo so Aleandro Aleandro invece mi dice incredibile come la tua bruttezza risalta ad ogni inquadratura vi faccio ammirare la mia bruttezza da ogni inquadratura da ogni angolazione ma vediamo anche le angolazioni di Aleandro eccolo qua il nostro Aleandro in tutte le sue inquadrature che non è esattamente diciamo Brad Pitt ecco quindi forse dovrebbe starsene zitto ma andiamo avanti oh qua 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 comincia raga qua comincia qua comincia anzi prima di cominciare con i super vecchi quelli della casa di riposo che vi avevo promesso passo ad una signora di me che sembra giovane ma secondo me di mezza età sembra giovane ma secondo me è sui 50 ma c'ha i filtri e il trucco però potrei sbagliarmi però insomma mi sembra una boom cioè mi sembra forse anche più forse vabbè comunque Mirela Mariana 798 Pantera mi dice quante volte ha detto cazzo in un video in cui dicevo parolacce che poi vi faccio vedere perché poi questa cosa ritornerà quante volte ha detto cazzo si vede che le manca usa la zucchina signor e io le rispondo facciamo vedere la foto della signora Mirela Mariana Pantera e io rispondo io credo che quello manchi a lei signora Mariana Pantera e tra l'altro nella sua bio di TikTok perché questo è un commento di TikTok c'è scritto anche sono Novax e quindi si spiega tutto anche se qui oltre a Novax direi anche no cazzo una che lamenta secondo me una persona che lamenta la mancanza di cazzo altrui è perché manca lei perché se no non è che ci pensi non ci puoi pensare cioè queste sono persone che chiaramente non scopano ma andiamo avanti perché anche il signor Mario ci tiene a dire sempre nello stesso video in cui forse l'ho travolto ha detto cazzo dici sempre il cazzo perché non te lo metti in bocca almeno ti stai zitta e io rispondo le piacerebbe signor Mario eccolo qua il signor Mario e il signor Mario dà il via a questa sequela a questo tragico climax di vecchi rincoglioniti ecco ad esempio Rossi Giovanni che addirittura mi manda un messaggio privato e mi dice sei un cesso di donna non vali niente così a caso così totalmente a caso totalmente a caso facciamo vedere la foto di Rossi Giovanni e facciamo anche vedere che mi segue mi segue e cioè e io infatti qua faccio la storia dicendo qualcuno tolga internet a questi nonnetti ma adesso partiamo di brutto con i nonni i nonni hater allora andiamo avanti con la signora Anna che dice no devi solamente scendere da quel piedistallo sei una convinta facciamo vedere la signora Anna eccola qua in tutto suo splendore con questo fantastico sorrisone e questo fantastico make up non mi resta che dirle vuole salirci lei signora eh vuole salirci lei sul piedistallo signora Anna perché a me sembrerebbe proprio di sì e secondo me ci starebbe anche bene dai un personaggio la signora Anna un bel personaggione insomma andiamo avanti e torniamo ai nonnetti ai nonnetti il signor Giorgio Morgante mi dice sei veramente una persona triste cazzo facciamo vedere la foto e io gli rispondo la sua faccia non mi aiuterà ad essere più felice signor Giorgio purtroppo no diciamo che non è proprio un bel vedere magari magari è stato un bel vedere da giovincello però diciamo che non è invecchiato benissimo il signor Giorgio ma passiamo a Roberto il signor Roberto che dice ma chi te lo ha detto che sei bellissima sei normalissima però senza neuroni allora qui facciamo vedere facciamo vedere il signor Roberto eccolo qua il signor Roberto e io gli ho risposto lei sembra avere molti più neuroni di me considerando la forma della sua testa signor Roberto cioè perché ha il testone da e qualcuno ha scritto nei commenti cioè in direct mi ha scritto Megamind che sembra Megamind che non so è un cartone qualcosa facciamo vedere Megamind mettiamoli vicini è tipo un alieno tipo la testa la testa da alieno la testa da alieno ecco quindi sicuramente in quella testa ci sta un grande cervello però nel caso di Roberto sembra non funzionare proprio benissimo spesso è come quelli che ce l'hanno grosso e non lo sanno usare e andiamo avanti però al signor Claudio nonno Claudio che ci dice vorrei vedere la mattina senza trucco anche lui e io gli rispondo io penserei a come appare la sua faccia H24 signor Claudio insomma dato che il signor Claudio ci beatifica con la sua foto profilo ecco diciamo che dovrebbe guardare se stesso qua abbiamo un nonno nonno barba nonno barba che in realtà si chiama Umberto Manfredini che dice ma quanto ce l'hai lungo sto cazzo vediamo il signor Umberto insomma e io gli dico sicuramente più del suo caro nonno Umberto sapete che poi con la vecchiaia secondo me si restringe un po' diventa non è più funzionante bene con la vecchiaia quindi diventa un po' non lo so cambiamo argomento raga passiamo passiamo alla signora Sabina che dice non sarà che nessuno vuole stare con te un discorso fatto solo sul XXXXXO e allora io facciamo vedere la foto di Sabina e io le rispondo le piacerebbe il cxxxx o signora Sabina cioè tradotto le piacerebbe il cazzo signora Sabina allora faccio una parentesi andiamo a capire il perché di questi commenti e di quelli che vedrete dopo riguardo al fatto che ci saranno più persone che diranno che nessuno vuole stare con me che nessuno mi vuole che nessuno mi ama eccetera eccetera perché io ho fatto uno dei miei soliti video natalizi su tiktok in cui dicevo mi veniva chiesto c'era una domanda che mi veniva chiesto tu da narcisista come vivi il Natale perché di solito dicono che i narcisisti sabotano le feste vabbè queste sono cose che vi dicono i fuffaguru ovviamente quindi vabbè passate oltre però avendo avuto questa domanda e avendo ricevuto questa domanda io ho risposto con i miei soliti video contro il Natale ed è il video in cui dico anche cazzo più volte però andava detto per rafforzare il pensiero e soprattutto per fare andare il video virale ovviamente chiaramente questi sono video fatti proprio apposta per andare virali e giustamente è il mio lavoro adesso ve lo faccio vedere questo video e poi torniamo con i commenti quindi vai con il video natalizio avendo io costruito la mia vita sullo sbattermi nel cazzo del prossimo a differenza vostra che a Natale dovete sorbirvi parenti, cene, regali di merda io invece non faccio un cazzo a Natale non faccio un cazzo e non ho il dovere morale di vedere qualcuno di partecipare insomma ad eventi che mi stanno sui coglioni in cui si riuniscono persone che mi stanno sul cazzo e quindi me ne sto tranquillamente a casa mia per i cazzi miei a fare le mie cose mi sto un po' sul cazzo il Natale perché magari è chiusa la palestra sono chiusi i negozi proprio di lunedì, di martedì vabbè mi sto un po' sul cazzo per queste cose però cerco di ignorarlo e godermi diciamo la mia solitudine lontana dall'umanità e dopo aver visto questo video contro il Natale in cui esprimo il fatto di non piacermi il Natale e quindi di passarmelo a casa da sola perché non mi piacciono le feste le cene le robe varie la signora Riccardina la signora Riccardina mi dice Riccardina la mesta Riccardina la mesta mi dice evidentemente non ti vuole nessuno ah perché ah vabbè e io vedo la foto profilo della signora Riccardina e rispondo allora andrò a rimorchiare Manzi nelle scuole di ballo come lei signora Riccardina cioè io risposto questo vedendo la foto perché ho pensato sì qua si vede che è in un ristorante così no però c'è quelli che fanno i balli così però vanno anche nelle scuole di ballo nelle scuole di ballo nelle scuole di ballo per le com'è che le chiama Massimo Taramasco aspetta aspetta non mi viene la parola non mi viene come le chiama Massimo Taramasco le malgascione le malgascione le malgascione ecco le malgascione ecco questa è proprio una malgasciona una malgasciona vera no le malgascione poi qualcuno mi ha fatto notare ma guarda Diva cioè in realtà solo una persona nei DM perché secondo me nessuno l'ha capita sta cosa e dice guarda Diva che secondo me è il suo matrimonio perché questa è vestita di bianco c'è il ristorante con i tavoli vestiti di bianco con i tavoli con le tovaglie bianche e è quello tipo il matrimonio io guardo bene e dico in effetti è vestita di bianco però come cazzo fa che cazzo di vestita di merda è ma può davvero essere un matrimonio secondo voi non lo so non lo so non lo so non lo so ce lo dica lei signora Riccardina ma se era un matrimonio veramente veramente come cazzo si è vestita qua abbiamo di nuovo qua torniamo insomma ai nostri nonnetti qua abbiamo un signore che mostra fiero tutta la sua fisicità e che dice signor Giuseppe in una frase hai detto cazzo almeno dieci volte addirittura almeno dieci volte sarà perché è proprio quello che ti manca poraccia e io rispondo me lo vorrebbe dare lei signor Giuseppe me lo vuole dare o me lo vuole fare mancare insomma qui ragazzi vi voglio far notare che è vero che questo video io volutamente sono stata volgare ho detto parolacce per farlo andare virale insomma no però non è che questi che vengono a dire che mi manca il cazzo siano molto più raffinati di me cioè non so poi non so ditemi voi però insomma non mi sembra questa una prova della loro raffinatezza cioè nel senso ma andiamo avanti con il signor Herbert il signor Herbert Seufert che dice perché non dici la verità perché non dici chiaramente che sei un satanista un un son maschio qualcuno pensa che sia maschio satanista vabbè sicuramente vuole scrivere una satanista e io no però guardate il signor Herbert sembra simpatico sembra simpatico e io gli rispondo con altrettanta simpatia dicendo signor Herbert se vuole glielo dico con una bestemmia e però ho fatto il rebus vedete ho messo il maialino perché io adoro fare questi rebus delle bestemmie ho messo il maialino con vicino Cristo già in realtà Dio se cerco le gif di God mi esce solo Gesù Cristo e quindi vabbè però si capisce il rebus non il maialino con di fianco Gesù Cristo insomma vabbè passiamo invece ad un ragazzotto ad un ragazzotto che sarà il nipote di uno di questi che dice Matteo credo che dice certo sempre riferendosi al video di Natale certo chi cazzo vorrebbe stare con una sfigata come te ma andiamo a vedere da che pulpito da che pulpito mi viene dato della sfigata ecco e io rispondo non tu fortunatamente almeno spero almeno spero diciamo che mi evito mi evito decisamente questa compagnia ma passiamo ad un altro giovinotto dopo tutta questa carrellata di anziani di nonni Antonio John Holmes oddio l'ho letto adesso raga John Holmes se non sbaglio è tipo un rock così freddi americano cioè tipo un super attore pornografico americano beh qualcosa di grosso ce l'ha Antonio che però non è il ma è il naso comunque dice vuota più dell'aria e io rispondo musica di quark no no non metterla regia non metterla perché ci bannano per copyright però non lo so la canto non me la ricordo cazzo cantate voi voi adesso mentre parlo voi a casa vostra cantate la musica di quark caro Antonio l'aria non è vuota ma composta da ossigeno anidride carbonica azoto e da altri gas in percentuale minore torna a scuola invece di scrivere minchiate con quella faccia da topo asino avete cantato la musica di quark raga l'avete cantata l'avete cantata bene tra l'altro nei miei dm ha avuto molto successo topo asino topo asino insomma e quindi con questo volevo chiudere il podcast invece non lo chiudo perché vi leggo un fantastico commento che non ho messo nelle storie ma sempre sotto a questo post del video di Natale addirittura perché è stato pieno di gente che ha scritto che se io non festeggio Natale è perché io sono sola nessuno mi vuole nessuno mi invita a festeggiare Natale quindi secondo loro dato che io dico che mi fa schifo il Natale lo faccio perché rosico del fatto che nessuno mi invita e non sono ben voluta da nessuno cioè questo è il loro ragionamento quando però sono loro che vengono a rosicare sotto il mio post quindi forse non è che è sempre la solita cosa dello specchio riflesso e forse sono loro soli al mondo perché oltretutto ciò che il mio video vuole rappresentare è l'ipocrisia l'ipocrisia natalizia perché io che amo molto la mia famiglia io ho una famiglia allargata cioè mia mamma che sta con il suo marito e mio papà che sta con la sua nuova moglie perché mio papà si è sposato a fine novembre non so se lo sape chi mi segue sui social lo sa perché ho fatto le storie ho fatto i tiktok però mio papà si è risposato mia mamma si è risposata un paio di anni fa mio papà si è risposato insomma e tra l'altro alla festa di matrimonio di mio padre c'era anche mia mamma perché siamo appunto una famiglia allargata e io amo molto la mia famiglia ma non me ne frega niente di vederli a Natale perché io li vedo frequentemente in altri momenti anche se stiamo un po' distanti però vado spesso da loro sia da mio papà che da mia mamma talvolta ci si vede tutti insieme e ogni volta che vado è una festa perché tutte le volte che io vado di solito vado giù due volte al mese però comunque ogni volta che vado è sempre come se fosse una cena di Natale in cui loro cucinano cose buone sempre il brindisi cioè è come se fosse sempre Natale ogni volta che vado sia da mio papà che da mia mamma e quindi io non ho bisogno di andarci a Natale solo perché è Natale cioè non ne ho nessun bisogno e ci vado tra qualche giorno che è il 30 e non è Natale cioè nel senso non ho bisogno del Natale per stare con le persone che amo quindi il significato del mio video era questo anzi a maggior ragione il fatto che a Natale si riuniscono persone che non si amano di solito che fanno i regali di merda ti regalano la sciarpa i guanti che cazzo te ne fai della sciarpa i guanti e magari vedi i parenti di terzo grado ecco io queste cose non le faccio e quindi io a Natale me ne sto per i cazzacci miei e quando ho voglia vado dai miei genitori dalla mia famiglia sto con loro ci sto volentieri perché lo voglio io non perché è Natale perché ci vado di martedì di mercoledì in qualsiasi momento io vado ed è sempre una festa ed è sempre come se fosse Natale ogni volta che li vedo questo insomma era il significato del mio video che però ovviamente il video non ha dato spiegazione perché ovviamente l'ho fatto per creare viralità e prendere per il culo ma neanche prendere per il culo perché secondo me chi intelligente l'ha capito però per prendere per il culo queste teste vuote e qua addirittura abbiamo il commento di uno che dice mandare da uno psicologo a farsi curare no e io rispondo dicendo cioè mi devo fare curare per organizzare feste di Natale cioè quindi siamo a questi livelli voi pensate a quanto le persone sono assoggettate a sue fatte da queste feste comandate che chi ha piacere a festeggiare il Natale tranquilla mia ma anche io ogni tanto l'ho festeggiato perché magari c'era quell'occasione particolare che mi piaceva insomma anche io a volte l'ho festeggiato però io evito tutte quelle situazioni obbligate per forza no e voi immaginatevi tanta gente che che appunto si deve sorbire questi cenoni che non ne hanno voglia non ne hanno voglia di vedere gli zio i parei i cugini non ne hanno voglia non ne hanno per le palle però lo devono fare perché bisogna farlo ed è questo che è brutto del Natale insomma no però questo non l'hanno capito e quindi la conseguenza è che il mio video è super virale con centinaia di migliaia di milioni no milioni non ancora ma ci arriverà perché sugli altri social io ho su youtube purtroppo non so perché non vanno mai virali i miei video ma sugli altri social ho milioni di visualizzazioni quindi prendendo per il culo sti miserabili e niente con questo io vi saluto ragazzi vi auguro vi auguro un fantastico 2024 in cui vi vedrete per tutto il 2024 il diva podcast e noi ci vediamo quindi ormai ormai nel 2024 ci vediamo un attimo che controllo il calendario prima di dire cazzate prima di dire cazzate consenti ma che non consentire telefono nuovo scusate non ho mai aperto il calendario da questo telefono sì 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 la prossima la prossima la prossima sarà sarà nel 2024 quindi si conclude qua questo anno di diva podcast nei commenti fate se siete arrivati fino qui fatemi anche sapere se vi è piaciuto se desiderate qualche cambiamento qualcosa di nuovo all'interno del podcast qualche richiesta per il 2024 fatemela pure e noi ci vediamo l'anno prossimo e viva gli hater che alla fine ci tengono sempre compagnia la prossima Grazie a tutti